Non mi anticipate come durante il periodo della riforma Foranero, se ci mettiamo anche gli esodati, che anche gli esodati sono una modifica della legge Foranero. Quello è un errore. È una modifica. Quello è un dramma, non so perché sono anticipate. Allora, nel fondo lavoratori dipendenti, nei flussi degli ultimi anni, ogni 100 pensioni di vecchiaia, ce ne sono state 222 di anzianità. Ecco, oggi allora, quindi la riforma Foranero non era più la stessa. Aveva già avuto delle modifiche importanti. Allo stato dei fatti, come stanno le cose? Stanno che sull'impianto della riforma Foranero si è aperta una finestra per tre anni che è quota 100. E poi il canale Foranero dell'anzianità, soltanto con il requisito contributivo, è stato sostanzialmente prorogato con i requisiti del 2018 fino al 2026. E poi, teoricamente, nel 2026 tornerebbe in vigola la riforma Foranero. Ma nel frattempo la riforma Foranero ha dato tanto di quel sangue, che non so se si possa dire, che è ancora viva. Comunque è molto debilitata. È debilitata. Tanto che ha perso più della metà dei risparmi che avrebbe dovuto fare, che erano previsti nel 2011. Ma non l'ha fatto l'inizio. Allora, fermiamoci un istante, perché Cazzola ha evocato gli esodati. Io mi sono occupata enormemente di questa vicenda. Dal primo giorno che cominciavano a venire fuori questi casi, l'ho considerata davvero una terribile ingiustizia. Lasciare delle persone completamente sole in questo guado tra il lavoro che non c'è più e la pensione che non arriva. C'è una signora che ho visto molte volte, vado molte volte a trovarmi, che si chiama Roberta Bottari. È una storia particolare, anche perché è una signora che faceva un lavoro importante. Ciao, Roberta. Ben trovata. Ciao. Grazie. Ci teneva un sacco a conoscerla, a Bottari, Durigon, perché sostiene che lei ha detto in Parlamento che lei non esiste. Perché lei, le posso assicurare che proprio la tocco è qui, lei ci teneva a farsi vedere da lei. Io non dico questo. Io ho risposto a un'interrogazione fatta sugli esodati, su elementi che in qualche modo l'Inps ha dato, anzi, una lettera ufficiale dell'Inps emanata all'ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e non a Durigon, quindi al Ministro Di Maio e ai sottosegretari, dove dice che per l'Inps non esistono gli esodati nella nuova salvaguardia e che quindi dobbiamo trovare un'altra azione politica. Guarda, io sono convinto. Cioè, io sono con voi, non sono con voi, però se è l'Inps, io ho la lettera. È convinto che esisti. No, no, io sono convintissimo. Anzi, è anche riconosciuto poco fa dicendo che è stato un grande errore quello degli esodati. L'errore della Fornero, io dico. L'errore della Fornero, però ha riconosciuto che è stato un errore. È stato riparato. Ha detto adesso lei. Sì, cazzola, è stato riparato, ma ci sono ancora 6 mila non riparati. Con 12 miliardi di euro. No, no, no. Gli esodati sono quelli che prevede la legge, non quelli che si autodichiarano agli esodati. Guardi, ci sono i dati... Che vuoi dire? Cos'è che vuoi confutare? Cioè, lui dice che sono stati spesi i 13-14 miliardi. Non è vero. I fondi stanziati erano 11 miliardi e 4%. Per gli esodati? Allora, per circa, guardi, ci sono qui i dati del report Inps, per circa 200 mila persone. Ne sono stati salvaguardati esattamente 142 mila. Quindi c'erano dei fondi stanziati che non sono stati allocati e non ammontano a 13 miliardi, ma poco meno di 10 miliardi. Mi scusi, lei esattamente sta dicendo che c'è l'Inps che ha risposto con una lettera al question time. Allora, lo stesso giorno che lei diceva questo, esattamente lo diceva il 14 febbraio alla Camera, era uno qui in studio con il suo collega Molinari che gentilmente ci ha fatto leggere la famosa lettera di cui lei parla sempre e che, mi scusi se glielo dico, credo che lei abbia interpretato al contrario. Le leggo esattamente cosa recitava questa lettera. Allora, l'Istituto ha evidenziato che non esistono categorie risodati che non siano stati raggiunti da precedenti provvedimenti di salvaguardia. Ulteriori misure rientrano nelle scelte politiche del legislatore, così come la definizione di Le Platee. Scusi, questo è italiano. Il legislatore chi è? Mi sembra che sia lei e il governo. Quindi l'Istituto ha detto che non ci sono più più secondo le salvaguardie... Mi scusi, mi perdoni, mi scusi però, sottosegretario, lei però mi dovrebbe far finire il concetto. No, io non ho finito il ragionamento. Facciamola finire e poi risponde. Scusi, poi lei risponde. Allora, ha risposto che non ci sono perché rispetto ai criteri enunciati nelle otto salvaguardie non ce ne sono. Ma se il legislatore gli dice andate a vedere nelle 20.000 domande non accolte dell'ottava chi ci sono, lei ci troverà, noi, i 6.000 esodati esclusi che nell'ottava salvaguardia sono stati 5 categorie lasciate al palo ed una categoria portata avanti al requisito 2021. Facciamo rispondere, Turingoni. Ho capito una sola cosa dalla vicenda degli esodati che abbiamo costruito una piccola elite di esperti di pensioni che ci serviranno per i prossimi 100 anni perché quello che sanno queste persone qui non lo sa nemmeno cazzola.